Ciao a tutti ragazzi, io sono iPirox e bentornati finalmente in un mio video del canale dopo lo speciale Allora, lo so, lo sto dicendo nel video in cui sto facendo lo speciale Ma dato che molti di voi probabilmente non saranno arrivati comunque a quel punto, comunque non l'hanno visto Io per sicurezza faccio questo video perché comunque è molto importante per la svolta di Jurassic World Come vedete ho 963.000, anzi, ho 990.000 di cibo, 912.000 monete, 1.000 di bancorote, 21.000 punti fedeltà Sì, lo so, 5.000 di DNA, sì lo so ragazzi, ho fatto una lasciata, poi tra l'altro ho portato il Malciugasaur a livello 20 Veloci Raptor a livello 20, ho un leggendario a livello 10 che ho trovato, Pteradodonte, che tra l'altro dentro del video Spero che sia uscito nel caso, ragazzi, ho il leggendario, ho portato un Diplocaulo a livello 40, molto arrapante, lo so Il suo ibrido è un Irriactor, che non so chi sia Lo so ragazzi, ho fatto una lasciata incredibile, lo so Vabbè, adesso prendiamo un po' di monete, a caso nel mondo Adesso prenderemo anche l'uovo E per quelli che stanno guardando tutto lo speciale, sì ragazzi, come vedete questo è il mio account Sarà strano caricare un video che è apparso in un video Allora, te devi ancora fare tutto, ok Adesso a te, attivo uno di 9.000 Così, giusto per E ragazzi, finendo il pass, come vedete qua mi manca un pacchetto che l'altro mancano 18 giorni Ma io l'ho finito 3 giorni fa il pass, quindi mancavano 21 giorni Guardate, questo pacchetto potrei avere, molto probabilmente avrò il Pyro Raptor coso Però io spero nel Carno Raptor, perché ho visto che il Carno Raptor è abbastanza OP Infatti c'ha più probabilità il Veloci Raptor Gen 2, perché Blu non credo proprio il 6%, ma forse, ma dico forse Per 11.99, quindi 12 euro Mi prenderò questo pacchetto, questo pass che comunque dà molte cose interessanti Anche il DNA Porca miseria, il touch, ok Il DNA godurioso del Veloci Raptor O se no, beh, cose comunque Il pass ti dà molte più cose Poi ragazzi, i 21.000 punti fedeltà Ne avevo 10.000 ieri Ne avevo 10.000 ieri, come? Ovviamente, guardando qua nelle... voi, se giocate Jurassic World Ovviamente qua guarda, Girosferi Roma Vedi, a volte vi dà robe, vedi, tipo 500 punti fedeltà A me ne ha dati 10.000 Non mi chiedete perché, io a volte apro quello a caso E... tutto molto interessante Allora, a questo video, per quelli che stanno guardando lo speciale Darò tipo il titolo, ho aperto un pacchetto Sono riuscito ad avere un pacchetto a pagamento gratis Perché, come vedete qua, negli eventi A me banca una battaglia qui Che dà come ricompensa E come vedete questo pacchetto che a me piace tantissimo Perché lo Spinosauro comunque è potente Io lo vorrei tanto avere E nelle altre possibilità si potrebbe trovare Tra tutti i dinosauri lo Spinosauro Gen 2 Che è fighissimo Quindi ragazzi, wow Posso dire wow Ma c'è anche il pacchetto del pass Ma sinceramente, adesso apriamo quello del pass Let's go Ragazzi, il momento della verità La rivolta ai Raptor Questo pass mi sarò sbattuto a far tutte le missioni per sei Per una settimana e mezzo, per niente La risposta è Non ci credo Non ci credo Il Velociraptor Gen 2, ho visto Ragazzi Velociraptor Gen 2 Non mi è capitato il Piro Raptor Il Piro Raptor Che era Quello con più probabilità Ragazzi, questo è il terzo che aveva più probabilità Ragazzi Velociraptor Gen 2, let's go E 650 punti di fedeltà A casissimo Ok Sono felicissimo Mi va bene così sinceramente Blu Ce ne faremo una ragione Poi raccogliamo Vabbè Un pacco misterioso Bellissimo E ragazzi abbiamo anche un milione di cibo A casissimo Va bene Abbiamo 22.000 punti di fedeltà Che ragazzi I pacchetti di fedeltà Come vedete C'è questo qua Che dà tipo 500 Tutto a caso Poi lui Che so sicuro che è potente Ma poi c'è Quello oro puro Che comunque dà anche lui Volendo 500 banconote Ma posso prendere due E ne trovo comunque uno bello Trovo un dinosauro bello Quindi Questo dovete dirmi voi nei commenti Quale è meglio Poi Statua Mister DNA No Quello di Jurassic Park Solo che deve avere il VIP No Che delusione Vabbè Wow Adesso qua Avevo un rarissimo Eccolo qua L'amico Che si chiama Posto Suco Bellissimo il Posto Suco Ok Li metto un po' così a caso I dinosauri Perfetto Il Posto Suco È molto interessante Quindi Qua perché c'è l'immagine Del T-Rex Qua ti dà solo cose rare Io neanche ci provo Guarda ragazzi Questi eventi Non me ne frega niente Di questi eventi Tipo Anche questo Molto probabilmente Si può avere Sto pacchetto Ma io sono sicuro Al 100% Che trovo Il pacchice Falosauro Cioè Non mi metto A cercare una roba Che ha l'1% O almeno Dell'1% Di possibilità Cioè Potrei trovarla Avendo un frutto incredibile Però Io preferisco Sinceramente Avere Un bellissimo Spinosauro Perché A me ragazzi Al posto A questo video Perché l'ho chiamato così Perché Comunque No Girosfera No Ci ho già provato questo Per capire cos'era un po' La roba della girosfera Dove Cavolo Sei Ah no È tra i pacchetti Ok Quindi andiamo sull'offerta È il pacchetto Africa Quindi It's the Africa Vabbè Che costa 10,89€ Che dà le stesse carte Di chi vince quell'evento Quindi ragazzi È un modo Che per avere Un Un pacchetto A pagamento gratis Nell'evento Ragazzi Contrate sempre Perché A volte capitano Questi pacchetti OP Cioè Sono potentissimi Tra l'altro Questo qua Hanno fatto lo sconto Ma costerebbe 18€ Quindi pensate un po' Avere 18€ Gratis Cioè Chi Direbbe di no Quindi ragazzi È arrivato il momento Di usare La mia squadra Ultra Power Up Men It's the Africa Come sempre A caso E vediamo un po' Allora Intanto a te ti sfotto Tantissimo Perché io Io due volte Che ti prendo E ti ho fatto Il tutto Quindi Carissimo Unicorno Non mi ricordo Come si chiama Stodinosauro Che ha un corno Però Credo che si vedeva Una volta in Jurassic Park Allora Io uso due di questi Perché so che lui Ha usato uno di scudo Ok Significa che adesso Avrà tre Ok E mi attaccherai Con quei tre O sei intelligente Non sei intelligente A quanto pare Quindi qua Usiamo uno di scudo Usiamo questi due È bello Uccidere tutti i dinosauri Con un dinosauro Allora No ragazzi Mi sono dimenticato Di una cosa grave Mi sa Ah no ok Perfetto Il volume del dispositivo Non c'è più Perché mi ero preoccupato Allora qua Ok Qua facciamo Un due tre Quattro A caso Ovviamente Avrà due di scudo Quindi ragazzi Abbiamo Finto Perfetto Ragazzi È il momento Della verità Grazie Mas Giungasauri Di essere stato con noi Adesso Ragazzi Io Ragazzi Ho per voi Quattrocento iscritti No Una leggendaria Una leggendaria Che bello 28.000 di cibo 56.000 monete E Lo Succomino Ma tutti con sto succo Una leggendaria Ragazzi Wow Emozionato Perché è bello Trovare le leggendari Così a caso Ragazzi 10 19 euro In realtà sarebbe Risparmiati Che bello C'è anche un altro pacchetto Africa Che costa un po' di più Perché si trova Sicuramente Un qualcuno E ragazzi Però io quel qualcuno Ho trovato Quindi ragazzi Un pacchetto Da 21 euro Ho risparmiato Pensa un po' Un pacchetto da 21 euro Gratis Ma mette Schiudetemelo subito Dove sei? Dove sei? Dove cavolo sei? C'è anche lo Spinolator Gen 2 Ma sapete allora cosa faccio? Tieni Dino Facciamo Così tanto ci vuole un giorno Per l'amico leggendario Anche lui E ne abilitiamo un altro Per 10 Banconote Ragazzi Ne abbiamo due Ultra OP Tra l'altro Un'ora in meno I rarissimi Ma vabbè Abbiamo un leggendario Felicissimo E io direi che anche con Jurassic World Abbiamo concluso Perché sinceramente Adesso aprire questi pacchetti Fidelità Troppe figate In una sola puntata Cioè ci sarebbe Una mega figata Ma Cioè Poi ditemi voi Nei commenti Se è meglio aprirne Due di questi O direttamente questo Che ti da Lui Tutto bello Ma Alla fine Le ricompense Credo che non cambiano E quindi l'hanno Eh si perché una volta Ti dava solo 100 Banconote Sto pacchetto Quindi adesso L'hanno potenziato Beh figo Poi ci sono questi pacchetti Che se li prendi Sei stupido Ma vabbè E ragazzi Io tra l'altro Come strutture Ho notato Che ho la torre Dell'introtti Che è fighissima Che prima o poi Metterò Ben in centro La mappa Come faccio adesso Col Jurassic Park Perfetto ragazzi Ovviamente per quelli Nello speciale Io adesso faccio L'outro Per quelli che Guarderanno poi Il video di Jurassic World Io spero che questo video Vi sia piaciuto Sinceramente Per il momento È stato il mio video Preferito di Jurassic World Perché Troppe emozioni In una sola giornata Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci vedo La prossima volta Con un altro video Ciao ragazzi Grazie per i 400 iscritti Perfetto Adesso